La domenica di Pentecoste, anno A, dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno e prima della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse «Paccia a voi». Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo «Paccia a voi». Come il Padre ha mandato a me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro «Ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». La Pentecoste è una festa cristiana, discende nello Spirito Santo, quindi sarà un'istituzione che Gesù ha fatto. Sbagliato, sbagliato. La Pentecoste è una festa antichissima, è di origine ebraica, sapete. In ebraico si chiama correttamente Shawot, ed è anche detta festa delle settimane, perché appunto si celebra sette settimane dopo la Pasqua, che cade il 16 di Nisan, secondo gli ebrei. Pentecoste, perché Pentecoste allora, se gli ebrei la chiamano Shawot? Perché Pentecoste è la traduzione in greco e a noi è arrivata tramite i greci, evidentemente, quindi 50 giorni dopo la Pasqua, ed è una festa importante, sapete, la Pentecoste per gli ebrei, ancora oggi, Shawot, perché prevedeva il pellegrinaggio a Gerusalemme, quindi tutto il popolo doveva andare, si ritrovava, diciamo così, quelli che potevano ovviamente, gli anziani malati eccetera, no, però chi poteva si recava in pellegrinaggio alla Città Santa, cantando i salmi delle ascensioni, quei bellissimi salmi che conosciamo e quindi, e c'era anche un aspetto sociale, si trovava un po', si scambiavano quattro ghiacchiere, si faceva festa insieme eccetera, quindi vedete, è una festa antica e celebra esattamente, vi ricordate, la legge che il Signore dà a Israele, no? Mosè sta sul monte e riceve la legge del Signore. Secondo la tradizione, il Signore offrì questa legge ad altre nazioni prima di Israele, ma tutte queste la rifiutarono, soltanto Israele accettò i dieci comandamenti famosi, quindi al Pentecoste ricorda, in ambito ebraico, questa legge che il Signore dà a Mosè sul monte Sinai, però data la stagione in cui cade, ricorda anche, celebra anche le primizie del raccolto, diciamo così, il raccolto ormai terminato, quindi vuol dire che c'è anche un aspetto agricolo, gli ebrei erano un popolo evidentemente agricolo, quindi ringraziavano per l'inizio del raccolto e per la fine del raccolto, infatti c'è anche, è prevista l'offerta del pane che è appunto prodotto col grano raccolto in questa stagione, quindi c'è anche l'aspetto così ebraico, insomma di festa, di ringraziamento per i doni che il Signore fa e quindi anche della legge, che è un grande dono che il Signore ha fatto al suo popolo, quindi ecco qua. Noi cristiani ereditiamo la Pentecoste e poi vedremo perché la ereditiamo, no? Perché non certo noi siamo legati al Reggio di Mosè, se non ai comandamenti, però poi la legge mosaica è stata, diciamo così, ha avuto un compimento pieno in Gesù. Allora, leggiamo il primo brano di oggi che è dagli Atti degli Apostoli, descrive appunto il giorno di Pentecoste e quindi tutti quanti i nostri Apostoli stavano raccolti nel Cenaco a un certo punto, effetti speciali, fragore, tuono, vento e tutto il resto, insomma lingue di fuoco che scendono dal cielo, si dividono e si posano su ciascuno di loro e tutti quanti furono colmati di Spirito Santo e parlavano in lingue straliere. Fatto non marginale, no? Anzi, cominciamo da questo che mi sembra importante. Voi sapete che nell'Antico Testamento si parla di Babele, la torre famosa che l'umanità cercò di costruire per arrivare fino al cielo. Volevano farsi come Dio, vicini a Dio, lo volevano arrivare vicini a Dio, illusi, no? Allora il Signore guarda giù, gli fa un bello scherzetto, confonde le lingue, non si capivano più l'uno con l'altro. Quindi questo spiega la diversità delle lingue nel linguaggio biblico ebraico. Tra parentesi un mio amico informatico, ha fatto una battuta abbastanza scherzosa che vi dico, perché dice che praticamente Babele fu il primo virus informatico della storia, perché colpisce il software e non l'hardware. La torre è rimasta intatta, però il software, cioè le lingue si sono confuse, non si capivano più. Quindi quella Babele, diciamo così, viene risanata dalla Pentecoste. Parla lingue straniere, quindi si capivano l'uno con l'altro. È l'opposto di Babele, la Pentecoste. Anche c'è questo aspetto di universalità, di mondializzazione, diremmo oggi. Questo è un aspetto sicuramente importante. E che succede? Che lingue di fuoco, il vento, il fragore, è esattamente quello che è successo, successe sul Sinai. C'è una ripresa di quella situazione. Quando Mosè, appunto, tra tuoni, lampi, fulmini, eccetera, riceve la legge. Qui la legge è nuova. La nuova legge è esattamente quella dell'amore, della carità. Quindi tutta la legge antica viene compiuta e riassunta nella nuova legge dell'amore. Quindi ecco, questo è quello che l'autore, cioè San Luca, ci vuol dire. Pentecoste, nuova legge. La gente è bella che capisce cosa dicono. Quindi c'è scritto esattamente gli stranieri, quindi i parti, i medi, gli eramiti, quelli della Mesopotamia, i cappadoci, quelli del ponto, dell'ase, la frigida, la panfina, dell'Egitto. Tutti quanti capivano il linguaggio degli apostoli. Ecco qua, la manifestazione di Dio al mondo. È una nuova epifania. Se vi ricordate l'epifania è il mostrare che il Signore è nato al mondo, qui c'è la nuova, una nuova epifania. Il Signore si fa capire, parla tutti quanti, i giudei, i proseliti, i cretesi, i arabi, sono tutti. Il messaggio di Dio è il Signore per tutti, il Vangelo è per tutti, non soltanto per le pecore della casa di Israele. Quindi questo racconto ha questo intento di mostrarci appunto, che il Vangelo chiama tutti quanti, tutti quelli che vogliono ascoltare ovviamente, no? È comprensibile a tutti quanti. Nella seconda lettura San Paolo dice ai suoi, ai corinzi, corinzi, greci, quindi la gente in gamba, imprenditori, navigatori, commercianti, filosofi, pensatori, insomma gente di grande spessore, dice fratelli nessuno può dire Gesù il Signore se non sotto lo Spirito Santo, se non hanno lo Spirito Santo. È quello che è successo, quindi gli apostoli ricevano lo Spirito Santo per quello, il dono, i sette doni vi ricordate, sapienza, il letto, consiglio, eccetera, eccetera, quindi quello è esattamente l'azione dello Spirito Santo. Se non abbiamo lo Spirito Santo è difficile dire Gesù il Signore. Notate che lo Spirito Santo non fa differenze, è molto democratico, scende su tutti, su chiunque, battezzati, non battezzati, eccetera, no? C'è infatti un passo, Paolino, in cui si dice appunto che lo Spirito Santo scese su alcuni non battezzati. Panico, perché insomma come non sono battezzati e lo Spirito Santo scende su di loro? Lo Spirito soffia dove vuole, quindi non possiamo certo essere noi a mettergli delle briglie e dire no, tu non sei battezzato, non hai... no. Ecco, la lettura continua con una bella similitudine di San Paolo, dice, no? Il corpo è uno solo, ma ha tante membra e così anche noi siamo membri dello stesso corpo, che è la Chiesa, poi. Notate che se un membro soffre, tutto il corpo soffre. Se ho mal di testa, sto male, non mi va di camminare, non mi va di fare le cose, non mi va di parlare, insomma, quindi per esempio... Quindi se un membro della Chiesa soffre, sbaglia gravemente, pecca gravemente, commette qualche sciocchezza grave, eccetera. Tutti quanti. Siamo interessati tutti quanti, dobbiamo partecipare a questa sofferenza. Non possiamo dire no, no, non mi interessa solo fare i suoi. No, è un membro della Chiesa, un membro di questo corpo che è la Chiesa. Quindi pensiamoci, siamo co-responsabili, no? Se qualcuno sbaglia, potevamo avvisarlo prima, potevamo proteggerlo prima, pregare per lui o per lei, per esempio. Tanto più per i familiari, no? Che succede spesso nelle famiglie, qualche membro della famiglia si sbanda, la famosa pecora nera. Eh, vabbè, siamo tutti quanti chiamati a prenderci cura di queste sorelle e questi fratelli che sbagliano, no? E veniamo infine al Vangelo. Il Vangelo descrive appunto quella famosa sera, il primo giorno della settimana, a porte chiuse. Stanno nel Cenacolo, porte chiuse sbarrate, paura. La paura li porta via, perché insomma, porte chiuse vuol dire che hanno paura che qualcuno entrasse a far loro del male. Il Signore non si cura di queste porte chiuse, entra e basta. Succede anche noi a volte, no? Chiudiamo le porte al Signore e il Signore entra ugualmente, come entrato nel Cenacolo a quei tempi, per cui ha voglia, no? A mettere barriere tra noi e il Signore, no? Non guarda, entra, stette in mezzo a loro e disse pace a voi. Che è il saluto che ancora oggi i Vescovi fanno, no? Pace a voi, è il saluto tipico del Vescovo, viene proprio da questo racconto. Mostra loro le mani e il fianco. Mostra i segni della passione. Vuol dire che il corpo era suo. Non è una metafora alla risurrezione, mi raccomando. C'è gente che dice, ma sì, è un modo per dire che la sua opera è continuata, ma poi il cadavere che cammina. No, no, no. È il suo corpo. Non sappiamo esattamente che corpo sia, perché Paolo dice a un certo punto che risorgeremo con un corpo rigenerato. Cosa voglia dire? Non sappiamo. Quando risorgeremo lo sapremo, per adesso no. Ci fidiamo di Paolo, dice, un corpo rigenerato. Il nostro corpo però è rigenerato. Quello è il corpo suo, rigenerato, ma con le ferite, quindi fa vedere i segni della passione. E i dicevoli sono contenti di vederlo, di vedere i segni della passione, perché questo veramente è il Signore. Non c'è dubbio alcuno. E quindi, detto questo, allora, soffia. Soffiare. Soffio in greco spiritos, si dice, guarda caso, no? E appunto soffio alita su di loro e riceve lo spirito santo. Ancora oggi i vescovi benedicono gli oli alitando su di essi. Quindi c'è questa emissione dello spirito. Quando muore sulla croce emise lo spirito, quindi sospirò, fece un sospiro e misero spirito. Adesso invece, come dicevo, il che riceve uno spirito santo. Da ora in poi dice a coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno perdonati. Sta a voi rimettere i peccati. Non solo rimetterli, ma fare in modo che tutto è possibile perché la gente non pecchi. Questo mandato è molto impegnativo. Vuol dire distruggere il male in ogni sua forma, non soltanto assolvere dai peccati. Sì, quello sicuramente lo facciamo, però da questo momento in poi i discepoli, quindi i successori dei discepoli indegnamente, hanno il potere di distruggere, di annientare, annullare il peccato. Non ha più la prevalenza il peccato, diciamolo chiaramente. E se il peccato c'è ancora, vuol dire che dobbiamo impegnarci di più a lottare contro i peccati. La nostra umanità, la nostra debolezza purtroppo a volte si fa sentire. Quindi questo spirito rinnova il mondo. Emite il spirito untume, crea un punto, rinnovabis facem terre. Il tuo spirito ricrea le cose e rinnova la terra. E la terra bisogna di essere rigenerata ogni volta, come del resto anche la Chiesa, no? La Chiesa è sempre, sempre riformanda, quindi sempre da riformare, perché camminando poi succede magari a volte che si smarresca un po' la via, si dimentichi un po' i doveri, quindi le riforme, ben vengono le riforme. Francescagni hanno avuto diverse riforme dell'ordine. Quindi, per inciso, i gesuiti, noi gesuiti, siamo gli unici forse a non essere mai stati riformati. Quindi, boh, chissà cosa sta sotto questo evento storico. Comunque, lo spirito ricrea il mondo, lo rinnova, lo fa nuovo, c'è i nuovi terra nuova, poi però appunto siamo noi che, con il nostro comportamento, ahimè, ne facciamo un luogo non idoneo, non bello in cui vivere, peccato e tutto il resto che c'è ancora in giro. Spirito Santo, l'effusione dello spirito, l'abbiamo, ne abbiamo parecchie volte, ogni confessione ben fatta, ogni confessione valida, ha un'effusione dello spirito santo. Quando il sacerdote ci assolve, ha effuso lo spirito santo per la dimissione dei peccati, eccetera, eccetera, quindi abbiamo un'effusione di spirito santo. Quindi la confessione non è soltanto il racconto di peccati, la contrizione, chiedere perdone, eccetera, ma è anche un'effusione di spirito santo. Così come il battesimo e altri momenti, anche Gesù riceve lo spirito santo. Vi ricordate, nel battesimo discende lo spirito santo su di lui ed era Gesù Cristo. Immaginatevi noi, no, quanto ne abbiamo bisogno di spirito santo. La confessione è anche quello, è anche un pieno, per così dire, di spirito santo, che ci dà la forza per andare avanti, per poi vivere meglio la nostra fede e così via. Allora, ecco qua, riassumiamo brevemente il messaggio di oggi, Pentecoste, festa ebraica, antica, shawot, festa della legge, Mosè riceveva la legge sul Montesini, ma è anche la festa del raccolto, quindi si presentavano le signore primizie, il pane benedetto, quindi offerto, 50 giorni dopo la Pasqua, Pentecoste vuol dire proprio quello in greco, c'è arrivata tramite i greci, quindi parli i greci. La legge, la nuova legge è quella dell'amore e il signore ce la scrive nel cuore, scriverò la mia legge nei vostri cuori, perché così non ve la dimenticate, insomma. Se tu leggi un libro, capace che il libro lo dimentichi, se ce l'hai nel cuore, insomma, la legge è quella, no, il pieno compimento della legge è l'amore. Gesù non abolisce la legge ebraica, ci mancherebbe, però dà compimento. Tanti sacrifici che si facevano, vi ricordate che gli ebrei quando facevano un peccato andavano al Tempio, compravano un animale e lo sacrificavano, e quello era così, l'espiazione del peccato. Adesso non serve più, perché è Gesù che ha fatto col suo sacrificio, un sacrificio unico e irripetibile, no? Noi facciamo memoria di quel sacrificio, la messa è una memoria di quel sacrificio, no? Ecco, legge nei cuori, quindi l'abbiamo scritta dentro, volenti e volenti ce l'abbiamo, quindi cerchiamo di vivere secondo essa il più possibile. La Pentecoste appunto è una babela al contrario, vi ricordate, appunto, vi han detto, ci fa capire, ci fa comprendere, grazie allo Spirito Santo, non ci facciamo comprendere con linguaggio universale, che è l'amore, anche se magari non conosciamo il cinese e il giapponese, però insomma, se facciamo un sorriso, se mostriamo affetto per una persona, è quello, in una lingua internazionale, non c'è bisogno neanche di parole. Spirito Santo ci vuole perché grazie a Lui possiamo dire che Gesù è il Signore, quindi per leggere correttamente le scritture ci vuole l'illuminazione dello Spirito Santo, se non c'è o non si capisce o capiamo male, quindi leggere la scrittura e sempre in preghiera invocando il Spirito Santo che ci illumini. Ecco, allora, tutti quanti siamo membra di un solo corpo, quindi se un membro soffre tutti gli altri devono curare questo membro, se no. E poi appunto Gesù emette lo Spirito, quindi emette il suo Spirito, gli Apostoli ricevono lo Spirito Santo, c'era anche Maria nel Cenacolo, emette lo Spirito Santo, quindi siete impegnati a combattere il maligno, il peccato in ogni sua forma, non soltanto a rimettere i peccati, che è sicuramente il nostro dovere, ma anche a combattere, a contrastare efficacemente il male e il peccato, con le vostre azioni, le vostre parole, le vostre testimonianze, eccetera, eccetera. Impegniamoci il più possibile a fare, a compiere questo mandato che il Signore ci ha assegnato. Grazie per l'ascolto, Dio ne vedica, alla prossima, speriamo in questo tempo di virus.